La Gocicoria Parte da qui dall'Arena Rocca Brancaleone di Ravenna, la tre giorni dedicata all'Iscio. L'evento ha la sua seconda edizione, ma già uno dei tratti più identificativi della Romagna. Il Liscio appunto, un fenomeno musicale che parte da molto lontano, dalla fine dell'Ottocento, quando la musica da ballo romagnola diventa popolare. Ma è grazie al grande maestro secondo Casadei prima e al nipote Raul dopo che il Liscio diventa un successo in tutta Italia. E sono in tanti a celebrare questo successo qui a Ravenna, da Andrea Mingardi a Moreno il Biondo a tutta la famiglia Casadei al gran completo. Si parte qui all'Arena di Ravenna con un concerto che vede coinvolto Andrea Mingardi, ma anche dei giovani appassionati di Liscio. Infatti è questa la formula di queste due edizioni che si è rivelata vincente, cioè unire le orchestre della tradizione del folklore romagnolo, i grandi nomi con le scuole di ballo e con gli artisti giovani indipendenti emergenti dalla nostra terra, insieme a dei big internazionali e nazionali che hanno poi esportato il Liscio in tutto il paese, anche all'estero come è successo l'anno scorso con Goran Bregovic. Questo ha permesso di rinnovare il Liscio, di riportarlo grazie all'impegno delle famiglie Casadei, quella di secondo Eric Carle, quella di Raul e Mirko, con anche Moreno il progetto Extra Liscio, di portare questa musica alle nuove generazioni che saranno quelle che le consegneranno ai giovani del futuro. Il Liscio ha questa peculiarità che racconta il passato, le radici e le tradizioni di una terra, di un popolo, però al tempo stesso è sempre stato aperto verso il futuro e quindi ha cercato di abbattere le barriere, è sempre stato contaminazione. Se inizialmente ero un po' schizzinoso, parlo di quando facevo tutti i festival del jazz, frequentavo, poi un giorno mi sono svegliato e ho convinto i gestori dell'altro mondo di Rimini a fare una serata in duo per la legge dei contrasti, secondo Casadei e Andrea Mingardi. Lui ha fatto un'ora di musica sua con tutti i ragazzini che ballavano, tanghi, valser e mazzurro, perché noi abbiamo fatto un'ora di rock and roll e ritme blues. È stato un trionfo, 5.000 ragazzi erano. Ma tu che giri tutto il mondo, ti è mai capitato in uno dei tuoi concerti di regalare al pubblico un brano tipo Romagna Mia? Come no? Tu lo sai che hanno fatto un sondaggio poco tempo fa, pare che Romagna Mia sia la terza o la quarta canzone italiana dopo un sole mio, nel blu dipinto di blu e poi forse l'italiano di Cotugno e poi c'è Romagna Mia, come brano ambasciatore della nostra terra. Spezziamo una lancia a favore del mondo del liscio che spesse volte viene relegato un pochino ai margini della musica. Sì, c'è uno snobismo culturale che è inaccettabile, basti pensare che da Caparezza a J-Ax, a articolo 31, a Paolo Belli, tutti citano Casa Day, tutti citano il liscio e invece a volte sembra quasi che ci sarebbe aver vergognare perché non è una musica culturalmente elevata. È una delle tante stupidaggini che purtroppo tutti coloro che hanno una miopia culturale portano avanti. È come il reggae per la Giamaica o il samba per il Brasile o il country per l'America, è musica popolare che non è mai di grande moda in testa alle classifiche ma proprio per questo è sempre nel cuore della gente, si tramanda di generazione in generazione, è sempre presente nella cultura italiana quindi per noi è il massimo. È l'unico vero ballo italiano, non esiste un altro ballo che attraversa la penisola. Se vogliamo dire qual è il ballo italiano è liscio, non vedo altra possibile alternativa. Ci ha visto bene secondo Casa Day quando ha deciso di intraprendere e lanciarsi nella Mazzurche, Polche e via dicendo. Guarda, secondo Casa Day ha raccolto il desiderio della popolazione romagnola di quegli anni perché io credo che sia veramente nato questo genere dalla gente, dalla gente che amava festeggiare al termine della mietitura, erano i primi del Novecento, voleva ballare, voleva cantare e ha cominciato a ballare le sue musiche. Lui è stato il primo scrittore di queste musiche, il primo interprete. Poi c'è stato Raul che è riuscito veramente a conquistare le pagine nazionali. Poi dopo io dico che in questa fase posso avere anche l'orgoglio di aver pensato a questo extra liscio che è finalmente una riscrittura. Noi sicuramente stiamo riscrivendo le pagine di musica romagnola come mai era stato fatto prima. Che ricordo ha di papà secondo non solo come musicista ma proprio anche come papà? Com'era? Magari senz'altro vi vedavate poco? Sì sì, beh gli ultimi anni soprattutto perché diciamo dal primo dopoguerra in avanti, dopo il successo di Romagna mia poi il babbo ha cominciato a dar fuori tutte le sere, infatti stava a casa solamente il giorno dei morti, il 2 novembre, il primo giorno di quaresima perché voleva rispettare questi due giorni. E diversamente sì, mio padre posso dire che io penso di aver avuto, dico sempre il babbo più buono del mondo perché quando ero piccolo disegnavo addirittura con due cuori per dire. e poi era di una tenerezza, di una bontà infinite veramente, aveva un carattere solare, molto affettuoso, ci voleva un gran bene e dico sempre che aveva solo un unico grande difetto, ero innamorato della musica e noi come famiglia ci sentivamo un po' il secondo piano, no? Prima c'era la musica, l'orchestra, poi c'eravamo noi, però non mi posso lamentare, anzi voglio dire insomma mio padre ci ha voluto un bene enorme. Ma quando Mirko prepara una canzone nuova c'è sempre lo zampino di papà Raula? No perché è come fra moglie e marito non si mette mai il dito, fra artisti, padre e figlio non si mette mai il dito perché c'è una guerra, perché lui dice mio papà ha fatto successo, io vorrei fare successo come lui, ci sto vicino, ci sto entrando, io lo guardo con amore perché adoro mio figlio, quando l'ho visto sul palco la prima volta mi sono messo a piangere, figurati. Ma un consiglio, una critica non l'ha mai fatta Mirko? Eh lui, tutti i giorni. 10 al giorno, perché sono un po' esigente, perché uno che arriva abbastanza diventa un po' critico esigente, però lui mi sopporta, poi i vecchietti come me a 80 anni diventano un po' noiosi, rompono le palle, vero Mirko? No, non è vero, alla fine tutto quello che faccio l'ho appreso da lui. Un omaggio doveroso alla nostra terra. Sì, siamo alla seconda edizione, voluta fortemente dall'assessore Corsini, che ha dimostrato una grande capacità d'ascolto delle richieste che provenivano già da tempo dal territorio, perché fortemente si è rivalutata la frequentazione da parte di tutti i nostri cittadini delle serate del liscio. E anche i nostri turisti si lasciano andare sulle note del liscio di secondo Casa Dei, che sono poi state coltivate dalle nostre band musicali. E la novità è dettata dal fatto che l'obiettivo è sicuramente quello di sottolineare questo patrimonio della nostra musica popolare, ma rilanciarla per i giovani, affinché nascano nuove interpretazioni e nuove musicalità. Goran Bregovic l'anno scorso lo ha fatto e quest'anno ci sono tanti cantautori e cantanti italiani e stranieri che faranno lo stesso e ci porteranno in avanti, sempre però ricordando la musica del liscio che ci appartiene. È una grande festa dedicata ai nostri cittadini, ma anche ai turisti che sempre in maggior numero hanno scelto di essere con noi. Tra le novità di quest'anno anche la presentazione di una miniserie dedicata al liscio, un'idea che nasce da dove? Un'idea che nasce da me, mi tocca dirlo, perché mi è venuta l'anno scorso quando ho fatto la prima edizione, ho detto ma perché eravamo reduci con il regista Gian Giacomo Dele Stefano da una serie di puntate sulla musica indipendente in Italia, ero molto indipendente, ma perché non proviamo a proporre a Sky Art anche una storia del liscio, Sky Art è accettato e quindi nasce vai con l'iscio in tre puntate dove si racconta la grande epopea del secondo Casadei, quella di Raul Casadei con tutti ovviamente gli eredi e quelle delle più giovani generazioni di oggi in tre puntate dal 14 giugno su Sky Art e procederà durante tutte le state ed è uno dei progetti che credo sia importante anche questo a punto di vista culturale. Emerge diciamo uno spaccato di quello che è il folklore romagnolo, la storia di questa terra, quindi come anche ci ha detto uno degli intervistati che è Lorenzo Giovanotti, se parliamo di America, di New York l'hip hop è la verità, se parliamo di Romagna, se parliamo della nostra terra il liscio è la verità, quindi è una musica che è nata per unire le persone, per farle divertire e questa trasversalità è passata negli anni.